Ne avrete sicuramente sentito parlare. Ieri mattina, 14 di ottobre 2022, due giovani attiviste di Just Stop Oil hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh alla National Gallery di Londra. E allora io ho letto tantissime argomentazioni, tantissime opinioni scritte da persone che più o meno possono essere inserite all'interno del dibattito, ma ho pensato che potrebbe diventare questo episodio un ottimo spunto per un vero e proprio debate da svolgere in classe e che ha come soggetto. Quindi da un lato il girasoli di Van Gogh che si ricollega ovviamente come lezione a tutte le lezioni che hanno a che fare con l'operato del grandissimo artista del post impressionismo, ma anche appunto un debate che può essere fatto anche in lingua inglese, quindi un debate cleel che può però coinvolgere i ragazzi partendo dalla domanda che le due attiviste hanno rivolto a chi le ascoltava nella sala 43 della National Gallery, di quelle appunto che ospita i girasoli di Van Gogh. La domanda che loro hanno posto, hanno gridato al mondo in qualche modo è vale più l'arte o vale più la vita? In sostanza è un po' questo il grande tema. Allora, l'azione ha fatto veramente grande scalpore perché le due giovanissime attivisti, una di 21 anni, una di 20, hanno gridato appunto ma vale più un dipinto del cibo, più della giustizia? Siete più interessati alla protezione di un dipinto o alla protezione del nostro pianeta e delle persone? Le due hanno buttato sul dipinto celeberrimo di Van Gogh due lattine di salsa di pomodoro, zuppa di pomodoro, le vedete anche in questa foto. Anche perché volevano simbolicamente portare l'attenzione su una crisi che parte dal discorso del petrolio, come dire, ma che in realtà coinvolge a livello planetario tutto il resto a catena, a seguire. Infatti loro hanno continuato dicendo il costo di questa crisi è parte della crisi del petrolio, la benzina non è più a portata di mano per milioni di persone che sono di famiglie, che sono affamate e al freddo, non possono nemmeno permettersi di riscaldare un barattolo di zuppa. Ecco il motivo per cui hanno deciso di imbrattare l'opera con la zuppa di pomodoro, lasciando perdere Andy Warhol e la zuppa Campbell, che in questo caso non c'entra nulla. Allora, innanzitutto questo gesto ha suscitato un enorme dibattito, evidentemente culturale, o non solo, anche dibattito proprio come fatto di cronaca, di attualità. La cosa importante da dire subito è che il dipinto di Van Gogh è protetto da un vetro e di conseguenza non è stato davvero rovinato, se non, così dicono gli esperti della National Gallery, ha in piccola parte la cornice che lo contiene, che lo custodisce. E gli attivisti hanno poi fatto sapere di aver scelto proprio questo dipinto, anche perché era protetto dal vetro, non avevano una vera intenzione di rovinare il vero Van Gogh. Poi, come vedete, le due attiviste, subito dopo l'azione, si sono incollate al muro della galleria, come spesso succede quando vengono svolti atti di questo tipo, quasi per assumersi la responsabilità e non scappare via, un po' come aveva fatto la Charlotte Correy quando aveva assassinato Marat nella vasca da bagno, ma non aveva deciso di fuggire, anzi si era in qualche modo consegnata ai giacobini e alla giustizia per andare incontro al suo destino. In realtà questo tipo di azione rientra appunto in una protesta molto più grande, che però ha sollevato veramente dibattiti molto accesi. Io qui quindi vi proporrei intanto alcune informazioni legate all'opera in sé, che magari quindi ci servono un po', e poi magari ragioniamo un attimo, ma sono solo spunti, poi sono cose che secondo me sono più belle da provare, su cui ragionare attivamente in classe. C'è chi ha detto ad esempio che occorre sempre una forma di shock per poter portare la consapevolezza delle persone su un tema così importante, qualcun altro però invece si è opposto dicendo appunto, ho letto che diceva appunto che in fondo perché prendersela proprio con l'arte che rappresenta il meglio dell'umanità, a maggior ragione se occorre puntare i riflettori su una tematica che invece vede un mal comportamento umano per il danneggiamento del pianeta. E qualcun altro ha aggiunto che questo tipo di interventi finiscono magari, invece di sensibilizzare l'opinione pubblica, finiscono per generare una sorta di rabbia ulteriore nei confronti di un movimento ecologista, che dovrebbe invece sollevare le masse in un altro modo. Questi sono spunti, non vi sto dicendo, non sto assolutamente prendendo una posizione. Tra l'altro ci sono tantissime questioni ulteriori perché si pensa che ovviamente è un dibattito un po' interno al ceto medio perché ovviamente chi è interessato ai girasoli di Van Gogh sicuramente sono persone che frequentano i musei o che hanno vagamente a cuore la cultura e forse non è il pubblico esatto a cui rivolgere questa protesta o forse è talmente tanto grande il simbolo che rappresenta un dipinto di Van Gogh che allora forse è più un attaccare Van Gogh come icona, come simbolo, come simulacro. Tra l'altro parliamo per un attimo dell'opera, poi torniamo un attimo sulle questioni che sono emerse. Allora l'opera è interessante da affrontare anche come debate ma anche come percorso Clill, vi dicevo, anche perché rientra in una serie di opere che Van Gogh ha realizzato quando era a Darl tra il 1888 e il 1889 nella famosissima Casa Gialla, l'Atelier d'Umidì, l'Atelier del Mezzogiorno e pare che abbia realizzato circa sette, anzi ha realizzato sette versioni dei girassoli di cui uno fa parte di una collezione privata quindi non è praticamente mai stato esposto e uno è andato distrutto nella seconda guerra mondiale. Questi sette dipinti, parte di questi dipinti dovevano essere, in qualche modo, sono stati realizzati per accogliere l'amico Paul Gauguin che in quel momento stava arrivando ad Arles, l'unico artista che risponderà all'appello che Van Gogh aveva rivolto agli artisti in fuga idealmente da Parigi e aveva trovato questa Casa Gialla in cui lui sognava di poter condividere, confrontarsi sul mondo dell'arte, sulle opinioni diverse a proposito del dipingere. L'unico che risponderà al suo appello è stato, come sappiamo, Gauguin, anche perché Gauguin, come sappiamo, era stato finanziato, stipendiato dal suo mercante d'arte che era Theo Van Gogh, il fratello di Vincent, quindi insomma è una storia un po' losca che vi ho raccontato in altre occasioni quando vi parlavo della biografia di Van Gogh. Tra l'altro, appunto, Van Gogh aveva detto il girasole è mio, identificandosi come elemento proprio simbolico e come vedete in questo dipinto, lui probabilmente proiettava qualcosa di legato alla bellezza e alla vitalità della natura, ma in questo dipinto, vedete molto bene, sono rappresentati 15 girasoli in tutte le fasi della loro crescita fino al decadimento, dalle gemme al fiore aperto pieno fino a rimanere soltanto con i semi, aver perso i petali e quindi ovviamente tutto questo rientra un po' nella tradizione che era quella del riflettere sulla Vanitas e legato quindi alla tradizione delle nature morte del 600 fiammingo olandese, già che lui proveniva dall'Olanda, appunto, quindi questo sicuramente è interessante. A parte questa versione della National Gallery, quella imbrattata, esistono altre versioni al Van Gogh Museum di Amsterdam, alla Neue Pinakothek di Monaco, di Baviera, alla Philadelphia Museum of Art e allo Sompomuseum a Tokyo, quindi giusto così per sapere. Van Gogh avrebbe dipinto le prime, avrebbe dipinto i due fasi, queste sette tele, le prime tutte in una settimana e ne aveva scritto anche il fratello dicendo proprio che approfittava di questa, no, della velocità quasi gustando, aveva fatto un paragone con le gustare una, la buibes marsigliese, no, un piatto tipico, no, nella velocità dell'apprezzamento. E dipinge molto velocemente forse anche perché ovviamente questi fiori affrontavano il decadimento, di giorno in giorno sfiorivano e questo sicuramente ha a che fare con la riflessione sulla Vanitas che dicevamo prima. Tra l'altro appunto Gauguin arriverà alla Casa Gialla il 23 ottobre del 1888 e voi sapete che rimarrà per due mesi a contatto con Van Gogh tra alti e bassi fino al 23 di dicembre dello stesso anno quando scapperà, diciamo così, Gauguin verso Parigi dopo il celeberrimo episodio della minaccia attuata da Van Gogh nei confronti di Gauguin e poi con un coltellino e poi Gauguin che se ne va e Van Gogh, come sapete, che rivolge la violenza verso se stesso tagliando su una parte del lobo dell'orecchio. Tra l'altro vi ho inserito in questo senso anche un dipinto che troviamo invece al Museo Van Gogh di Amsterdam in cui si vede, ed è un dipinto realizzato da Gauguin mentre si vede Van Gogh intento a dipingere i girasoli. Ora vi ricordo l'epoca storica in cui, anzi la stagione in cui i due hanno convissuto tra ottobre e dicembre del 1888, ovviamente non era pensabile che Van Gogh in quel momento dipingesse davvero dei girasoli ma probabilmente dopo aver dipinto il primo ciclo, Van Gogh ha ridipinto a memoria altri fiori, non era necessario vederli, come dire, averli sott'occhio, quindi è curiosa anche questa testimonianza molto interessante perché ci mostra l'occhio di Gauguin con la pittura di Gauguin a campitura platta che immortala l'amico almeno per quella breve stagione appunto che li beveva a fianco. Cos'altro volevo dirvi? Ah, i simboli della simbologia legata ai girasoli sono stati associati sin dall'epoca appunto seicentesca all'amore perché ovviamente, alla divinità in qualche modo, perché l'idea del fiore che segue la luce è come se fosse seguire il divino a chiesa evidentemente, ma anche all'amore perché come l'amato che, no, nella sua amore profano segue l'amato, l'amante che segue l'amato e in qualche modo diventava, può essere visto anche come una specie di la folla che segue il leader da un certo punto di vista, ma sicuramente per Van Gogh invece assomigliava forse più a una sorta di visto che si identificava in parte con questi girasoli, una sorta di visione di gratitudine lui amava moltissimo il colore giallo e quindi identificava questa gioia in questo passaggio terreno destinato a sfiorire e questo cogliere il fiore forse è per questo che questi girasoli sono così amati, così celebri con la sua tipica pennellata che scava, che incide materica, la vedete molto bene in particolare nella parte dei semi quasi a dirci veramente, non lasciarci questa traccia in cui è necessario agire agire subito, agire in fretta, vivere pienamente perché siamo destinati a passare in un batter d'occhio, quindi questo davvero diventa molto interessante a questo punto tornerei davvero alla questione, ho sbagliato tornerei davvero alla questione del dibattito proviamo un attimo a capire quali possono essere altre questioni in campo con la premessa che chi vuole attivare un debate magari in lingua inglese per un'operazione CLIL può andare a trovare dei materiali io ho trovato dei materiali interessanti, autonomi e originali del Guardian ad esempio come articolo e poi sono andata sul sito della National Gallery a reperire le informazioni in lingua che mi potevano servire altri spunti poi vi lascio al lavoro autonomo ma questa azione compiuta da queste ragazze in fondo ci fa anche capire che cioè è più importante, non ne abbiamo veramente riflettuto ma è più importante proteggere l'arte o proteggere la vita allora forse il discorso è anche un la cultura è un lusso per pochi cioè chi non ha modo di riscaldarsi nemmeno una zuppa chi ha delle problematiche economiche importanti noi che andiamo a rovinare il pianeta sono questioni che diventano primarie solo per chi ha difficoltà vere e diventano secondarie per chi è occupato d'altro e per contro la cultura è un lusso per pochi chi ha problematiche vere non si occupa sicuramente di Van Gogh ma quindi questa azione è una rivolta a un'elite da museo che è forse quella che ha più potere decisionale se pensiamo alla classe dirigente o forse un'altra questione che vi propongo ma è più importante tutelare il passato e quindi un dipinto che hai in un museo o è più importante preservare il presente in vista del futuro e quindi avere un occhio in avanti ma e qui vi propongo un ulteriore tema che secondo me è molto interessante ripeto sono solo spunti però in fondo questo dipinto l'ha protetto da un vetro per fortuna diciamo noi ma allora ha senso vi chiedo io colpire un simbolo cioè è stato colpito il simbolo di un dipinto di Van Gogh Van Gogh come simbolo tra l'altro Van Gogh è stato l'artista che forse più ha voluto affrontare il tema della fragilità fragilità individuale fragilità umana in fondo possiamo anche estendere la fragilità del pianeta se vogliamo no? questi fiori che stanno già per sfiorire hanno già concluso un ciclo di vita quasi ma allora chiedo ha senso colpire un simbolo sarebbe stato molto più efficace colpire un dipinto primo del vetro quindi rovinare veramente un dipinto come quello sicuramente non avrebbero potuto affrontare la causa legale dal punto di vista economico certamente ma ha senso colpire solo un simbolo l'azione vale ugualmente o vale di meno? sicuramente un'azione come questa appunto solleva nell'opinione pubblica un dibattito e questo ha sicuramente degli aspetti interessanti ma forse anche questa azione non rivolge una vera critica ai veri responsabili del problema di questo cambiamento climatico o di questa protesta contro la logica e i signori del petrolio come dire ma vi aggiungo ancora quando vale la pena mettersi in gioco queste ragazze sono state arrestate quando vale veramente la pena mettersi in gioco quando anche per cause così importanti come quello del cambiamento climatico quando ha senso compiere un'azione le azioni che vogliono rivelarsi di rottura scioccanti devono essere scioccanti fino in fondo oppure basta colpire un simulacro il vetro di un dipinto e così via sono soltanto alcune di questi temi mi sembrava interessante buttarveli lì sarei veramente veramente curiosa di sapere che cosa viene fuori dal lavoro di classe io ovviamente lo farò questo lavoro 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 io ovviamente lo farò questo lavoro